Musica Nel 1890 Charles Miller, un giovane studente brasiliano, aveva appena fatto ritorno a San Paolo. Dall'Inghilterra, dove aveva passato gli ultimi anni, aveva portato con sé un paio di palloni da calcio e il relativo manuale con la spiegazione e le regole di questo nuovo gioco. Da lì è cominciato tutto, il resto è storia. Ora come allora, il calcio, o meglio Fuchibou, rappresenta qualcosa di più di uno sport. È un'entità. I brasiliani hanno scritto pagine di storia in questo sport, pure il campionato nazionale in Brasileira o, secondo alcuni, non sembra avere lo stesso api dei campionati europei. Questo non vuol dire che non possa essere affascinante. Tra poco capirete perché. Il nostro viaggio comincia da qui. Il nostro viaggio comincia da qui.